ragazze sul sofà, bambini sul sofà, un po' di inglese male non vi farà avete visto un disegno, in questo disegno ci sono parecchie cose e allora su queste cose, se vogliamo fare un po' di compiti inglesi, possiamo giocare il disegno e le cose che vi leggerò sono tratte dal libro di Julia Donaldson un libro di poesie dell'autrice del Graffalo, quindi una delle autrici più conosciute del mondo per l'infanzia alla fine della lettura io vi farò vedere anche il testo del libro in modo che possiate aiutarvi a capire questi 5 riddles, 5 riddles, 5 indovinelli questi indovinelli, per rispondere correttamente a questi indovinelli bisogna guardare molto bene il disegno, tutte le cose, tutte le soluzioni sono nel disegno ok, let's go, first riddle, primo indovinello I am a lift, a shiny lift, with thin white passengers to shift squeeze them in and send them down, when they come up they'll be golden brown secondo indovinello I'm smaller than a mole, I'm smaller than a mouse and I turn inside my hole when you go into your house terzo indovinello I'm partly red and partly white I have no wings, yet I fly through the night I fit in a space that's black and tight I come to you heavy, I go back light quarto indovinello nippers, grippers, legs in the air the wind may blow, but we don't care nippers, grippers, all in a row squeeze our legs and we'll let go quinto e ultimo indovinello I swallow children, women, men I roar and roar and roar and stop and spit them out again and swallow up some more Si, è un po' complicata la cosa ma potete farcela, lo so che potete farcela e fatevi eventualmente aiutare da un dizionario da papà, mamma da nonna e la nonna se sanno un po' d'inglese ciao e buon divertimento e non vi preoccupate se non ci riuscite oh, continuate a sorridere ciao ragazzi sul sofà